la Sicilia e anche oltre è molto più bello di quello di Napoli e allora come siamo? Tutto buono? e mi dispiace perché sono 4 che fa tutto buono gli altri tutto buono? funicoli, funicola e anche funicola qua questa canzone è un'altra che fa parte del mio ultimo album ultimo album naturalmente però questa è una canzone che ho scritto insieme con il paestro Alcaccio e Alcaccio e io ne voglio approfittare, grazie Alcaccio perché noi l'abbiamo scritto insieme una canzone che parla di amore e furto amore e furto infatti sentito la dubbia è rubato e come ragazzi voglio sentire umidità nell'aria voglio sentire le donne che urgo ne hanno umidità, umidità, umidità e io non voglio portarti in dolietto con me ti avrei dato mentre vi distratta anche un corpo di fulmine ma lo porto di fulmine in queste giornate di agosto non sembra impossibile e io non ho t'ho guardato e i miei occhi mi sei accorto solo che sono un po' strappico e non mi importa niente tu mi hai rompato tu mi hai rompato tu mi hai rompato e mi hai rompato il cuore non la portame e allora vorrei sentire però la pacchia tu mi hai rompato il cuore non la portame e va mentre ci sto il abbo di fulmine ma lo e fa solo vai mi chiamerò E' felice e mi risponderò Mi scriverò un messaggio di CCC Tu mi hai rubato, tu mi hai rubato Tu mi hai rubato, il cuore è tutto e forte Mi hai convidato un uomo interno nel mio visivo Mi danno due rumori, un destino, un assombregato Mi danno due rumori, un destino, un assombregato Mi danno due rumori, un assombregato Forse è un po' nel tempo che la gira in diavola E ora questo non era tanto col film Ma molti non sapono che quando il cantante ne vuole dare Tiene le mani in alto alto, verso il cielo a cielo E' un chiaro messaggio per tutto il pubblico presente Dico tutto il pubblico presente Andate a tenere le mani in alto Sono più costringenti a farlo tenere spittaria l'aria Ma non è caso Tutti quanti con le mani in alto Come quanto il villaggio turistico pagate 4 mila euro Questa sera voglio fare gratis Grazie a tutti 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 Saremo il 16 di marzo in piazza Università Catania insieme a Yali Papà e ad altri gruppi per celebrare a 350 unità e noi che si ordinemo con all'angolo studio. Prima due italamente, dopo di che saremo allo Wise Club di Catania del 1 e il 2 aprile, ma il 2 aprile adesso è il nostro Facebook, esattamente il Facebook, la faccia di libro.